queste non le ho mai viste con l'angolazione, guardate che carina, hanno usato una base, poi sono andate su una tavola che non faceva parte delle palanche e anche le sedute non facevano parte delle palanche e poi a questo punto si è usata un'altra palanca, molto carina, anche questa vediamo, queste piccoline, fantastiche ragazzi